Ragazzi e ragazzi e soprattutto collezionisti, bentornati sul canale. Quest'estate ormai stiamo viaggiando sulla nostra macchina del tempo all'interno delle collezioni vintage, delle collezioni degli anni 2000 e non solo alla vostra sinistra. Due Socher Stars che erano nel video precedente, se ve lo siete persi mi raccomando andatevelo a recuperare che queste sono veramente due chicchette. Oggi però andiamo a parlare calcio Merlin. Serie A e non solo. I più attenti di voi avranno già visto che di queste otto collezioni una sola non è Merlin ma è Panini ma ci arriviamo con calma. E allora partiamo dalla prima, io ragazzi le sto risfogliando insieme a voi perché avevo preso i bomberini a fianco, ho trovato queste perle e quindi ho detto ok faccio un video anche su questi quindi io non so ragazzi non mi ricordo assolutamente cosa ci sia all'interno se le collezioni sono complete se sono completamente vuote quindi andiamo a sfogliare velocemente insieme. uscivano in queste bustine, mamma mia ragazzi che ricordi, uscivano in queste bustine con le figurine che erano otto per figurina, praticamente otto per foglio più c'erano due gomme da masticare e intorno alle gomme c'erano queste figurine più lunghe che ora andiamo a vedere. vedete ad esempio partiamo dall'Atalanta aveva tutte queste figurine più piccole attenzione qui Rossini che ha fatto una brutta fine l'angolo di Rossini e poi c'era questa della squadra e questa del giocatore magari più rappresentativo in questo caso Doni che erano arrotolate intorno alla gomma. Poi vediamo il Bologna, vedete qui ad esempio me ne manca una di quelle lunghe del Bologna poi chi abbiamo? Il Brescia, vediamo se c'è qualcuno e invece c'è ovviamente Baggio sia in versione più grande sia in versione più piccola a fianco a un giovanissimo Luca Toni. Poi vediamo un po', abbiamo il Chevo, anche del Chevo mi mancava questa più lunga ovviamente erano più difficili da completare queste lunghe perché quelle corte, vuoi o non vuoi poi più o meno uscivano sempre un pochino tutte le stesse, era un po' difficile da scambiare perché erano veramente piccoli però all'epoca era un bambino, avevo mani sicuramente più piccole e si faceva. Collezione quindi non finita direi per poco, tra l'altro il Como che è tornato proprio quest'anno in Serie A, poi abbiamo l'Empoli con Totò di Natale con Totò di Natale, eccolo qui, l'abbiamo messo anche a fuoco così. Si vede meglio, passiamo all'Inter, Inter ovviamente con in risalto abbiamo Vieri, lo Scudetto non era quello originale perché probabilmente non avevano i diritti però questa comunque una grande Inter, a proposito di grandi squadre ovviamente Juventus che casualmente proprio quelle della Juve mi mancano entrambe quelle lunghe quindi anche qui magari un discorso di rarità. La Lazio l'abbiamo completa con Inzaghi e Chiesa in attacco il Milan purtroppo non l'abbiamo completo però mamma mia che Milan, che Milan Dida, Maldini, Nesta, Pirlo, Gattuso, Sedov, Inzaghi, Sceva, Rivaldo, mamma mia che squadrone qui c'è il Modena e sotto il Modena abbiamo il Parma con Adriano ovviamente in risalto giriamo pagina, abbiamo no, abbiamo prima il Perugia ovviamente con Micoli dietro il Perugia abbiamo il Piacenza con un giovanissimo di Francesco oddio non proprio così giovanissimo, Regina e dietro la Regina eccola qui ovviamente ragazzi la mia Roma e che Roma e che Roma con Totti, Batistuda, Montella e Cassano in attacco mamma mia formidabile, formidabile sotto il Torino poi abbiamo l'Udinese e alla fine abbiamo anche il calendario di Serie A, sicuramente era un modo interessante e carino per collezionare qualcosina della Serie A, collezione piccolina, sì difficile da completare per quanto riguarda le gomme però le figurine che si trovavano intorno alle gomme quindi vediamo se c'è qualcuna completa perché non lo so, io solitamente cercavo sempre di completarle però ovviamente mi concentravo più su quelle della Panini, questa invece ancora più vuota quindi magari la sfoglio velocemente anche Baggio, magari ragazzi voi sotto nei commenti fatemi sapere ovviamente che ricordi avete di questa collezione se le conoscevate vedete qua lo scudetto fatto ad adesivo a figurina ovviamente però non originale con una stella e proprio quest'anno sono arrivati invece a due stelle con Adani e Cannavaro. Sotto abbiamo Martins e Vieri quindi dicevo ragazzi sotto nei commenti fatemi sapere cosa ne pensate di questa collezione se le conoscevate se magari siete riusciti a finirne almeno una e perché all'epoca comunque queste collezioni ha purtroppo anche una pagina strappata tra l'altro del Milan che è la squadra che ne avevo di più almeno in quella stagione, poi abbiamo il Modena perché comunque dicevo erano collezioni che andavano eh, andavano parecchio tant'è vero che poi negli anni successivi proprio la Panini provò a replicare anche con un albumino più piccolino. Tra l'altro qui alla Roma un giovanissimo dei Rossi ma lo potremmo definire praticamente un Haruki considerato l'anno e finiamo di sfogliarlo velocemente andando all'ultima pagia con i bomber del campionato dove tra l'altro mi era uscito proprio Totti e come sempre alla fine il calendario. Andiamo a vedere anche velocemente le altre stagioni quindi stagione 2005 il concetto è sempre lo stesso anche qui pochissime probabilmente perché poi come detto mi concentravo su quelle sull'album dei calciatori classico della Panini sì anche qui direi veramente veramente poche nemmeno della Roma giusto Candela quindi su questo andiamo più veloce però c'era un Cassano in versione più grande. E passiamo quindi anche velocemente a Calcio Merlin 2006 anche questo purtroppo molto molto vuoto vediamo se c'è dell'Inter qualcuno Materassi ah carina questa di figo con la firma stampata molto molto carina con anche il bordo dorato vediamo se della Juventus giusto abbiamo qualcuno abbiamo giusto Buffon della Lazio abbiamo Oddo con Cesar quindi i capitani anche avevano il bordo dorato vediamo se del Milan avevamo qualcuno Iankulowski e poi la squadra in grande Shevan Vieri e Girardino praticamente avevamo l'attacco tranne Inzaghi vediamo se della Roma avevamo qualcuno avevamo proprio Totti carina così con il bordo dorato aspettate che ve la metto a fuoco eccola qui carina carina con il bordo con il bordo dorato e in fondo vediamo se qua c'era qualcosa di particolare in fondo no solo la lista di controllo che era utilissima perché uno si poteva segnare praticamente le figurine che aveva e dalla stagione 2006 di Merlin Tops eccolo qui passiamo proprio a quello della Panini che aveva capito un po' l'andazzo quindi come avete visto andavano questi albumini allora anche la Panini ha provato a fare un po' la stessa cosa album piuttosto vuoto si ragazzi ci scrivevo cose sopra ma insomma ero piccolo secondo me ci stava andavano andavano vissute queste queste collezioni anche questo albumino molto vuoto però ricordo che mi piaceva averlo anche come database anche da collezionare vuoto con quelle poche figurine che magari si potevano prendere dell'Italia intanto abbiamo camoranesi con io che ho scritto appena campioni del mondo va bene insomma dai ragazzi ci stava ci stava calcio Merlin 2007 questo mi sembra un pochino più pesante non so se ero io che avevo trovato più figurine o semplicemente avevano messo più figurine no probabilmente avevano messo più figurine quindi praticamente quello dove ne avevo di più era proprio il 2003 quindi dai ci sta che ci siamo anche soffermati poi c'erano gli aggiornamenti fatti a modo mio dove su Azzo anche se qui alla maglia del Cagliari visto che poi si era trasferito all'Inter io l'avevo messo direttamente all'Inter vediamo giusto se c'è qualcuno anche della Roma giusto per rotta vediamo se in fondo ah qui c'era anche la serie B perché giustamente c'era la Juventus in serie B e quindi avevano fatto questo espediente di metterci anche la Juventus in fondo c'era il super quiz con delle domande e poi la risposta praticamente era la figurina che andavi a trovare in questo caso Pannucci e Tony e chiudiamo il video con due collezioni anche in questo caso molto piccoline dedicate alla nazionale partiamo da quella del 2004 queste me ne ricordo abbastanza quindi forse l'album ha anche esatto qualche figurina in più questa ragazzi era una una squadra veramente fortissima questa nazionale italiana era veramente veramente fortissima cioè guardate che nomi sì sicuramente siamo messi meglio però anche questa non è una collezione completa peccato perché comunque ne avevamo tante poi il difficile di queste collezioni è che se non scambiavi con qualcuno non c'era nemmeno nemmeno un modo per andare a prendere poi le figurine mancanti qui abbiamo la Francia anche la Francia eravamo messi a buon punto la Grecia finita insomma dai anche queste ne avevamo di più e alla fine c'era giustamente il calendario di quello europeo con io però in questo caso a matita dove avevo scritto il risultato della finale con la Grecia che aveva vinto 1 a 0 e andiamo a vedere anche l'ultimo piccolo albumino sempre Merlin sempre targato tops perché questo era tutto invece dedicato all'Italia proprio alla cavalcata che poi ci porterà come vedete al mondiale 2006 che ci ha visto vincitori bello che c'erano anche le leggende del nostro calcio questo era prima di vincere il mondiale vedete rotta verso la Germania tra cui ci sono anche tante immagini di Vieri che poi purtroppo per infortunio non riuscì a partecipare a quel mondiale queste erano le pagine con i giocatori che si pensava potessero poi partecipare a quel mondiale ad esempio Blasi che non ha partecipato e ad esempio vedete qui c'era Diana c'era Chiellini Bonera De Rossi vedete con tutte le figurine poi io che facevo dei commenti appena sul quale andrei oltre che dire dunque ragazzi anche per oggi questo video può finire qui il nostro viaggio nel tempo anche per oggi è finito fatemi sapere sotto nei commenti se vi può interessare altri video di questo tipo perché io ho un po' di collezioni del genere comunque da farvi vedere qualche calamita anche magari sui calciatori ma questo dipende tutto da voi e scrivetemelo in caso qui sotto nei commenti a me non resta che ringraziarvi soprattutto voi che come sempre arrivate alla fine del video e io vi auguro buona giornata e buona fortuna con gli spacchettamenti grazie grazie